Napoli, Scudetto vicino, Scricchiola ha un record della che dura da 75 anni. La cavalcata del Napoli potrebbe riscrivere diversi record del massimo campionato italiano. Con questo ritmo, gli azzurri potrebbero superare i 102 punti della Juventus di Conte. Ma non solo Scudetto con più di 5 giornate d'anticipo, non ci è riuscito nessuno c'è un record che dura da 75 anni e che nessuno è riuscito a superare. Ma soltanto ad eguagliare. L'ha stabilito il grande Torino nella stagione 1947-1948. Quando vinse lo Scudetto con ben 5 giornate d'anticipo. Nel corso della storia. Sono riusciti a fare attrettanto anche la Fiorentina, 1955-1956, l'Inter, 2006-2007, e la Juventus, 2018-2019, nessuno è mai andato oltre. Il Napoli potrebbe raggiungere questo importante traguardo, visto che al momento i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono saliti a 19. La vittoria del campionato con un numero maggiore di 5 giornate d'anticipo, farebbero cadere il record. Permettendo al Napoli di Spalletti di entrare ancora di più nella storia del calcio nostrano. I numeri delle altre leghe europee particolari e anche il confronto con gli altri maggiori campionati europei. In Spagna c'è lo stesso primato, con il Real Madrid, 1960-1961 e 1974-1975, e Barcellona, 1973-1974, che non sono mai andate oltre le 5 giornate per la vittoria della Liga. Numeri mostruosi quelli fatti registrare dal Liverpool nella stagione 2019-2020 che ottenne il successo in Premier League con ben 7 giornate d'anticipo. Proprio come il Bayern Monaco nella Bundesliga 2013-2014. È arrivata a 8 partite prima della fine dei giochi. Invece, la vittoria del Paris Saint-Germain nella Ligue 1, 20, 15, 20, 16. Virgola.